Due mesi di lavoro, 20 persone all'opera, centinaia di piastrelle colorate e tanta creatività. Questi gli elementi che hanno reso possibile la realizzazione di un murale samosaico su una parete laterale del piazzale di Villa Valentina su Lungomare Amarotta, entrando così a far parte dell'arredo urbano della città. Quando è nata l'idea di realizzare questo progetto? Allora, due anni fa Chiaroscuro ha iniziato questa avventura del corso di mosaico, 5 lezioni. Lì chi ha partecipato è rimasto travolto dalla passione e ha fatto delle opere a casa propria. Fatto questo è venuto fuori un bel lavoro, ognuno di noi ha detto perché non presentiamo al Comune la possibilità di realizzarlo per tutti i cittadini questa cosa e chiamare tutti i cittadini che hanno voglia di partecipare. Ed è nato così. L'amministrazione chiaramente ha subito accolto con piacere questa iniziativa e ci ha supportato. Un lavoro minuzioso che ha impegnato l'associazione culturale Chiaroscuro insieme ad anziani con diverse patologie e disabilità. Io mi sono accorta con mia madre che lavorando su questo mosaico lei in quei momenti, la sua malattia non c'era più praticamente, allora abbiamo cercato di allargarla questa possibilità. Ora chiaramente questo è il primo lavoro, le persone si sono avvicinate un po' con timidezza, speriamo che prossimamente si avvicinino ancora di più. Il mosaico rappresenta il percorso del sole dall'alba sul mare al tramonto dietro il castello di Mondolfo. Sono raffigurati inoltre onde, barchi a vela, pesci, meduse e gabbiani. Allora il materiale ci è stato donato da privati, da negozianti, da piastrellistri, anche se semplici cittadini che ci portavano, vedendoci lavorare, ci portavano delle piastrelle, delle cose. Noi abbiamo chiesto cose colorate perché poi neutri ne abbiamo tantissime, cose un po' particolari. Quindi inizialmente è stato creato un disegno su carta e la nostra paura è che poi sul muro perdesse un po' l'effetto. Invece è stato il contrario, quindi siamo veramente soddisfatte e sarà sicuramente una cosa da ripetere. D'accordo con Beatrice e anche Angela, una fanese che ha contribuito alla realizzazione del mosaico. Non semplicemente che speriamo che questo sia il famoso progetto pilota nato qua a Marotta e visto che io sono di Fano, spero con tutto il cuore poi di portare il tutto a Fano e che sia il bellissimo inizio di un nuovo viaggio. Di fare un mosaico, un mosaico. È un'opera che qualifica la casa del turismo richiamando la bellezza del nostro mare. È orgoglioso il sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo che commenta il mosaico realizzato sul lungomare di Marotta e annuncia che verrà inaugurato ufficialmente nelle prossime settimane. Sindaco, un'opera meravigliosa che hanno realizzato i suoi concittadini? Certo, è una cosa bellissima. Qualche volta sorridente, niente problemi, niente allagamenti, ma è una cosa bella. Devo ringraziare a nome mio personale, l'intera amministrazione, l'associazione Chiaroscuro che si è impegnata e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Io ho ricevuto tantissime telefonate di cittadini che sono venuti qui ad apprezzare questo lavoro bellissimo. Ci sarà il modo di inaugurarla ufficialmente? Certo, ogni anno la Regione Marche, dopo l'assegnazione della bandiera blu che avviene a Roma e al Ministero, la Regione Marche fa la consegna ufficiale delle bandiere blu ai comuni che le è stata assegnata. Subito dopo noi diamo la bandiera a tutti gli operatori sul litorale. Io ritenevo, l'amministrazione riteneva, che in quel momento, in quella sede, si potesse fare sia l'uno che l'altro perché si svolge qui a Villa Valentina, quindi si farà la consegna delle bandiere e l'inaugurazione di questa bellissima opera.